Grazie. Qualcun altro intende intervenire? Non mi pare. Con il parere contrario della torre di maggioranza del Governo, quello fa... Vuole intervenire? Prego. Volevo tramite lei, Presidente, spiegare all'onorevole San Nicandro che, essendo la nostra una democrazia competitiva, è il Senato che concorre con se stesso per migliorare le sue funzioni. Grazie. Parere cont... Onorevole Sanna. Capisco il clima scherzoso, ma trattandosi di Costituzione ricordiamo che in più parti, quando si parla delle competenze di Camera e Senato, che sono sempre e comunque il Parlamento della Repubblica Italiana, anche se con funzioni differenziate, concorre, significa svolgono insieme, anche se non paritariamente, perché solo alla Camera è lasciato il potere di indirizzo politico che massimamente si esprime con la fiducia al Governo, il ruolo di legislazione, in alcuni casi, di valutazione delle politiche pubbliche, in altri casi. Grazie. Se non vi sono altri, con il parere contrario della torre maggioranza del Governo, quello favorevole dei relatori di minoranza, d'eccezione dell'onore della russa, la votazione è aperta. Ci siamo? No. Sandra Savino, Pilozzi, Abrignani, Altri che non riescono a votare? Fantinati. La votazione è chiusa. Presenti 426 votanti 390.